Abbattimento delle barriere architettoniche, parcheggi dedicati, assistenza domiciliare, diritto alla salute e all'istruzione, questioni basilari nel vasto mondo della disabilità rispetto tra l'altro a una normativa di ormai 33 anni che non sempre viene applicata a dovere. Raccomandazioni semplici ma a quanto pare inascoltate a meno di un mese dalle amministrative nella bacino più popoloso d'Abruzzo, quello che comprende Montesilvano e Pescara. E se perlomeno a Montesilvano ci sarà presto un faccia a faccia con i tre candidati a sindaco, a Pescara le parole di Claudio Ferrante, presidente dell'associazione Carruzzini e Determinate, sembrano cadute nel vuoto vista l'assoluta assenza di risposte da parte degli otto candidati alla guida della città. Questa è la dimostrazione di come la politica si allontana anni luce dal problema della gente. Eppure, lo dico in maniera pubblica e lo continuo a dire sempre, loro percepiscono denaro pubblico e quindi hanno il dovere di dare risposte. Quindi abbiamo chiesto ai sindaci del comune di Pescara candidati su alcune questioni, come per esempio la questione delle barriere architettoniche. C'è una legge dall'86, sono passati 33 anni e ad oggi non è stato risolto assolutamente niente quando era assolutamente doveroso organizzare il piano. Parchi pubblici non sono inclusivi e non sono accessibili. Abbiamo la strada parco che è completamente una cattedrale nel deserto. Continuano a sbandierare questo mezzo pubblico che passerà sulla strada parco e noi sono anni che diciamo fate passare quello che volete ma assolutamente strutturate la strada in modo che tutti i cittadini possano accedere e tutti possono prendere il pulma. Niente di tutto questo. Nelle scuole, le scuole per i bimbi disabili iniziano sempre un mese e mezzo dopo perché mancano gli assistenti e non sono qualificati, mancano corsi di formazione. Per i negozi non è possibile accedere perché hanno tutti i gradini. E quindi abbiamo un'assistenza domiciliare che è colabrodo, non è qualificata. E quindi dare una risposta anche ai familiari delle persone con disabilità che assistono 24 ore i disabili. Insomma, abbiamo chiesto questo, nessun candidato sindaco del Comune di Pescara ha dato una risposta.